partiamo in ordine alfabetico quindi partiamo da akali quindi costo 5 comunque quindi akali dash attraverso più nemici in una linea facendo danno magico e quelli che trapassa e li marchia per 7 secondi quando un target marchiato droppa sotto x percentuale di hp akali ci va addosso e li killa tipo ione non so se vi ricordate solo che lo fa quando il target tipo al 2 quando il target va a 25% di hp lei ci dash addosso lo killa e li esecuta quindi li killa proprio e fa però anche danno magico a tutti gli altri nemici a cui passa mentre va a esecutare questi quindi è comunque molto strong c'è e in più a poco male pare 50 quando si vede il mano mi parebbe 50 ma la è bella forte anche lei le sedi sono signi che tassassi quindi quelle che abbiamo visto prima di sciapo quindi sa indicati che da omni van parmore meres a tre lo dà il sign di che con meno hp e per quello che vi dico ad arius e bravo magari li giochi poi con il sciacco e giochi 3 sign di che così magari puoi anche giocare il sciacco che vuole dargli a kali e poi su appi da kali ok a 5 invece tutti i sign di che te set tutti gli alleati e i bonus sono raddoppiati hai cambiata addirittura la del nostro è bella forte a 7 bella forte cazzo ovviamente ha già cambiato si vedete solo se è vero non so se ci sarà la spot ma sicuramente potete avere la sinergia in più col con un argument poi blitzcrank è uguale ai scorsi set quindi grabba il nemico più lontano all'estona per 2.5 secondi e poi fa tirare il pugno che lì che lo capa per un secondo poi tutti gli alleati ovviamente avranno il foco sul target grabbato le strategie sono scrap che abbiamo visto quella degli item cioè se avete uno scrap champion con un component diventerà un'ata incompleto e in più guadagnano 70 hp for ogni item per ogni item equipaggiato in generale del vostro team guadagnano hp in più forti forti early forti early late da vedere 6 scrap che cazzo fanno 3 per 3 unit tutti gli alleati incompleti sugli scrap e il bonus di hp è raddoppiato dove due lo sarà rispondibile subito quindi rimettete in front e comunque tantano un po oppure rimettete in background e tantano gli assassin quindi un bel counter degli assassin anche ai bodyguard e all'arma ramentata i protector sono uguali al set precedente al set 3 mi pare quindi c'è 2 3 4 5 però non è 2 4 poi bravo le sue energie le abbiamo viste vediamo cosa fa in pratica fa la ulti di lol quindi fa uno stun in direzione lineare e fa danno magico e struna per un bel po di tempo quindi è un po magari tipo nuova sejuani no ciò gatti si diciamo che secondo me è più scarso perché secondo me può intartela perché sejuani non te la poteva missare però si è come quello non li ho flamer quindi kating che ha enforcer sniper questo giorno l'abbiamo viste quindi l'enforcer ok è tipo una specie di zephyr all'inizio del combattimento gli enforcer mettono questo zephyr per 4 secondi è forte ce l'ho avuto contro è forte le rompe moglioni esattamente lo zephyr e a 2 è il nemico che ha più hp e a 4 è il carry è infatti è clamorosamente forte 4 però ti tocca giocare via kating che sono una merda ovviamente si comunque anche a 2 buono anche a 2 buoni eh l'hate hanno zephyr gratis set fiora e jace li puoi giocare in qualche compo hanno zephyr gratis e gli alzi solamente il tank eh magari un colossus magari perché non è capito eh il zion 3 il zion 3 glielo alzi così eh cioè ci sono le stesse teccate poi non mi ricordo quanti secondi però è veramente figa sta roba oltre a bodyguard c'è anche questa teccata quindi poi gli sniper che sono uguali al set 3 Kog mamma mia fanno più danno in base all'ex sono 2-4-6 sono katelyn ma sai perché c'hai chosen no? no sai perché c'è l'aument però magari c'è anche la spat ok poi comunque la ulti eh katelyn ha la ulti che è uguale uguale al set 3 che fa la ulti al nemico più lontano e fa tanto danno quindi in dirty game è comunque un aiuto molto forte è praticamente well shot yes sir camille è un set 1 ma è diversa dalla camille che abbiamo visto precedentemente guadagna uno shield che le pare il danno e poi fa magic damage in un cono ok è un po' simile a udir penso che guadagna comunque uno shield e fa un po' di danno però danno magico ed è un clockwork challenger quindi i clockwork hanno attack speed aumentato guadagnano attack speed e quindi e guadagnano in più attack speed colonia quindi scalando col game sono più forti no? perché ammette l'augment subito e mette l'augment a 3-5 e l'augment a 5-1 infatti ovviamente le hits sono da mettere e un'altra sinergia per attack speed che è challenger i challenger guadagnano attack speed bonus e quando fanno un take down quindi un assist o una kill dashano sul nuovo target tipo i berserker per dirlo o i cavalier si una special si si esatto è tipo i cavalier e raddoppiare il bonus per due secondi in me è tipo è uguale a cavalier solo che anziché guadagnare damage redaction guadagnano attack speed eh però ti dico guarda e non saltano sempre però eh esatto quelli ranged non credo saltino si si che ai si lasciava in auto attack range è il target più vicino si ma non mi li esatto non mi li tipo fiora ti viene e mi li kaisa no esatto e comunque l'attack speed è bello bello ciotto quindi già camille che ha due serie di attack speed in early game potrebbe essere un decente team holder comunque gli unit clock war sono camille zina angeli e orianda e gli unit challenger sono queste qua cioghat è diverso dal solito bello cioghat è bello secondo me in pratica divora un nemico facendo danno magico però non true damage e se chiede il target guadagna la stack di fist che sarebbe manchetto fino a x stack massime una stack ogni stack guadagna il 2% di hp bonus ed è più grosso quindi è una specie di lulu che però guadagna gli hp bonus ogni volta che chiede qualcuno penso che funziona anche nel pb è sta roba si si la funzionava e poi c'è il fatto è mutanti come abbiamo detto prima possono essere qualsiasi cosa caso ovviamente inizio game sarà uguale cioè lo sappiamo sarà uguale per tutti e ovviamente ogni inizio game lo potete sapere e i champions sono kassadin, kog, chou, malzamundo e kaisa nuovi champions comunque poi li vedremo e se non da bruiser gli alleati hanno salute bonus e i bruiser ce l'hanno il doppio è diverso è tipo brawler solo che tutti gli alleati hanno questo bonus quindi esatto è figo cioè è molto forte a 6 a 8 immaginatevi tutte le vostre unit che hanno tipo giocate a 8 di questi cosi più un carry per dire magari mettere a spatto l'augment hanno 8 per 900 hp però i vostri bruiser ne hanno 1.800 in più è pazzesco Colossus è quello che stavamo dicendo prima non sono grandi 2x ma sono grandi 1x però ti costano 2 contano i 2 unit e il primo è anti cc che dice vabbè il secondo è 25% danni ridotti tipo cavalier quindi anche da soli comunque li potete giocare hanno comunque questa strategia però comunque giocare le 2 diciamo che è molto spendioso però da solo secondo me non è così valio capito cioè il 25% danni ridotti ma se ne giochi 2 comunque devi giocare a 2 pezzi in meno eh sì io ne galio non te le giochi eh lo so però tipo all'8 giochi in 6 eh quindi è un po' strana come cosa diciamo vediamo che come sicuramente girano i colossus forti eh i mutanti per forza i mutanti per forza poi Darius è quello del 7-1 quindi spilla fa danno penso Illy sia uno dei migliori champion perché sicura fa danno tiene le tentanque è sicura applicha il morello sì fra è danno magico tutto il danno magico il tuo damage applicha il morello ah applicha il morello ah no non applicha il morello lui c'ha il morello cioè se gli dai glielo puoi mettere glielo puoi mettere no ok anche la hate brocca eh sai di che un po' di che l'abbia già vista sono le stesse energie di bravo quindi comunque in combo con bravo sono le stesse energie uguali poi mondo mondo allora quindi vediamo cosa fa perché non l'ho visto bene quindi ok quando ulta si prende salute e diventa energizzato per 6 secondi quando è energizzato guadagna salute bonus ogni secondo praticamente e fa danno a magico ok quindi è tipo il mondo che ulta e fa la W doppia perché fa anche danno attorno a sé alla fine della spell fa un altro burst che fa danno in percentuale della sua vita corrente a tutti i nemici vicino a 2x quindi è un danno non ho capito tanto che fa un po' di danno non ho capito male e i chemtech è forte cioè chemtech è forte per lui esatto perché i chemtech vediamo un po' sono questi champion qua sono tanti e quando scendono sotto il 60% di HP guadagnano 25% di damage reduction molto forte per molto quindi 50% attack speed e reggnerano 5% del loro HP ogni secondo è forte molto forte e a 3 dura 4 secondi a 5 a 7 a 9 dura di più significa che non finisce il combattimento al 9 mutante ognuno ce l'ha a caso chissà poi quale sarà la migliore sul mondo poi ecco l'abbiamo visto nel video di prima quindi fa la W di lol fa un cerchio e i nemici attorno al cerchio hanno l'attack speed rallentato del 35% gli alleati attorno al cerchio hanno l'attack speed aumentato del 35-70% e in più fa anche danno ok non mi pare neanche che avesse tantissimo mano sicuramente starta con tanto male quindi unta quasi subito il suo giro se lo scrap che l'abbiamo visto è assassin che è la solita ok poi vedremo se cambieranno i numeri o altri vabbè i numeri ragazzi prendete sempre le pinze sia adesso sia sul pb cioè se ci sarà una roba bro e non nerfano ezzel l'abbiamo visto quindi potrebbe essere forse una cosa rinrollabile ezzel però dici essendo scrap ma più che altro sono costi bassi di scrap 1 sono costi bassi di innovator anche un pochino è slorolli sing ed ezzel ziggs blitz e anche trundle 5 innovator e 4 scrap tipo una cosa una porcheria cosa diventa boh diciamo che dipende ezzel lo vedo bello forte però le unit intorno ziggs cioè si perché comunque se ti togli dalla pool e costa tipo cultist esattamente come cultist a 3, 5, 7 e sono più forti le unit che è più forte le unit non c'è fiora fa la ulti vecchia però è assolutamente roba fa la ulti che aveva prima perché diventa intergettabile mentre colpisce il target e le puntività di 4 volte ogni colpo fa il 200% fa un bel po' di danno e fa bonus true damage e cura il 15% dell'anno totale se il target muore fiora resetta no fiora will change targets to release enemy ah ok è tipo sindra del set 3 ti ricordi che se il target muore fa gli ultimi colpi su un altro pezzo vicino le sindra ci sono enforcer che allo strada del combattivo è quella che abbiamo visto quindi tipo lo zephyr e challenge che l'abbiamo già vista che è quella dell'attack speed che è tipo duelist magari si vede a duelist poi galio costo 5 parla le te allora galio fa la ulti cioè perde l'aggro fa la ulti e stunna in un range abbastanza grosso poi non so esattamente cosa fa e dove salta però penso nel mezzo di più persone ma non ho capito e c'ha socialite c'è una specie di cioè c'è proprio una è tipo coven si si capisce perché è illuminato e ci sono ovviamente a 1 fa 15.100 bonus damage a 2 regenera anche mana per secondo e a 3 c'ha pure univamp tanta roba il fatto è che è forte da solo perché comunque anche solo un galio ti dà è vero che ti occupa due posti però ti dà anche questo bonus un'altra unit c'ha bodyguard che taunta c'è unit costo alto anche quindi si possono giocare molto volentieri penso nel senso taric solo te lo giohi per taric come unit te la giohi o serafin come unit te la giohi perché comunque c'hai sia la unit bonus più il tratto socialite comunque istambaffato anche un altro champion vabbè c'è colosso occupa un posto in più l'abbiamo detto però bodyguard comunque armor aumentata è tanta il galio è tipo penso il galio del set 4 quindi tipo quello dei cultist che va dove ci sono più più unit ok le siengi le abbiamo viste siamo a gangplag per le balle pronte vabbè ci sono ci sono quindi il gp fa la q di lol ah ok la terza meccanica è gangplank probabilmente quella che dicevi no perché fa la q facendo danno in percentuale col suo ad e se killa il champion gangplank guadagna un gold cioè guadagnate un gold voglio si era questo le sue energie sono mercenari quindi è quella che vedevamo prima guadagnate una cesta si apre quando combattete quando vincete contro un player all'inizio di riprendere un phase potete scegliere di rollare un dado per aggiungere qualcosa in più alla cesta più a lungo siete andati senza aprire la cesta più fortunato sarà il dado ok è un simile fortune solo che quando vincete quindi è più simile pirate fortune strano però si si è non l'ho capito nemmeno io l'ho giocato e non l'ho capito però si è tipo fortune è più fortune poi potete decidere se aspettare per la cesta quindi avete il dado che può essere più fortunato oppure aprela subito per avere i gold immediati poi twin shot e ok è simile ai blaster è simile però è diverso perché hanno i blaster lo facevano sempre tipo di bug però ogni x autoattacchi si qui invece ogni attacco hanno questa probabilità forte su graves forte e early cog forte e early a 4 mi sembra quasi sprecato devo essere onesto però a 2 se giocate jinx o graves cog e early lo giocate a 2 sicuramente poi roma carica costo 4 eh si visto che l'abilità è un autoattacca può proccarla 2 volte può prendere l'attacca infatti sicuramente jinx urgot a late te li gioi sempre garen è il solito costo 1 quello che c'è nel set 4 nel set 1 ah no è diverso invece no no è tira ok si toglie il cc e il suo prossimo autoattac farà percentuale del suo danno a d più percentuale del suo danno a d è tipo la v doppia ok ok quindi si toglie il cc e fa danno con l'autoattacca e può fare tanto danno perché se è low dhp lui fa tanto danno è tipo vq una specie di cosa sul lol non mi ricordo poi accademia che non l'abbiamo vista guadagna la bonus a dmp e ogni volta che quando gli alliatica saranno l'abilità guadagnano ancora più bonus a p a d tipo spell weaver solo che guadagnano anche a d oltre che da più forte e protector è figo se se le unit non facessero cagare esatto boh lux non è male io le magari è lux e iumi lux e iumi e bust poi grapes grapes è come il set 3 quindi lancia lo smoke sirino tira la smoke all'emico con l'attac speed più alto la sinergia sua l'abbiamo viste ora accade a miato in shot next poi c'è il donger il donger lancia la vovoglia e quindi sono 3 onde di rocket che poi si uniscono al suo target e ogni razzo fa danno magico è ridotto al 30% per ogni target che hit quindi praticamente uguale a quello di lol e ogni caso successivo aggiunge una wave di rocket quindi bisogna vedere quanto mana ha ma se è di bidet magari una scioglina un blue buff può staccare e diventare fino a 10 rocket e fare un bel po' di danno diciamo no? le sinergia sono iordor che non l'abbiamo vista è simile a draconi quindi dopo ogni combattimento ti danno uno iordor un random nella bench quindi esattamente come i draconi solo che te lo danno subito da slow rollare? anziché aspettare te lo danno subito eh magari si e se hai giocato a 6 il loro mana costa è ridotto al 20% quindi sono tutti costi bassi comunque si potrebbe slow rollare a 6 ti serve chosen magari iordor innovator visto che comunque vabbè di granchi innovator che l'abbiamo visto è tipo cultist e invece scolar che non l'abbiamo vista che è tipo ocean del set 2 tutti negli atti guadagnano mana nei 2 secondi ma è tanto mana 5 mana 2 15 mana 4 30 mana 6 a 2 esatto a 2 te li gioi fissi se gioi Heimer gli altri potrebbero essere anche eri decenti Heimer magari buildato con Shojano Blue vedendo il mana che avrà Eloy Eloy slama il suo target e la loro soul per 5 secondi fa magic damage ok quindi si si connette alla soul del suo target quindi all'anima del suo target e si cura ogni volta che quel target prende danno è fortissimo Irly è tipo un tank che comunque fa un po' di danno e si cura pure tipo Darius Irly è forte tipo Darius Vladimir anche ed è un SNI è comunque anche una strategy che potrebbe dare magari magari i Irly che trovate che GP delle sfere Eloy Queen non male c'avete una front line un bel po' di danni e pure un game è successo una bella Queen 2 e poi è Bruce che abbiamo già visto quindi buone fortissime una bella per giocare Irly già una urta e cura tutti gli alieni per 3 secondi è quella del set quella di Chessun esatto quella che era Cloud Mystic retag tutte forti retag scrap che l'abbiamo vista quella degli item poi enchanter quindi le cure e le genti sono più forti e tutti gli alieni guadagnano Magic Rise quindi è Mystic più forte verosimilmente te Joey proprio sulla vedre sta pagina Gianna Jinx e Yumi così ti fai Scolar a 2 scrap a 2 gli dai un mezzo item a Gianna gli dai 3 item a Jinx completi e c'è 3 tag fortissime cioè vabbè fortissime scrap magari later nel massimo però Jace costo 5 Jace è particolare Jace è molto forte Jace ha 2 forme la forma Medi che fa questo Jace quindi lancia il suo martello 2 volte e poi va addosso al suo target facendo danno facendo danno e togliendoli armor e magic resist poi ranger invece Jace fa la E quindi mette un acceleration gate però aspetta non l'hai proprio detto aspetta il fatto è che se te leggi su Transformer Jace se lo metti nell'ex davanti Emily se lo metti nell'ex dietro è ranger scegliete stavo spiegando le forme dando a tutti gli alleati quella linea quindi che prendono l'acceleration gate attack speed e i suoi prossimi 3 attacchi vengono impaurati e sono più forti comunque e ok quindi come ha detto Balo quindi se lo mettete verso la front line sarà Medi se lo mettete verso la back line sarà il ranged quindi scegliete voi se è meglio ranged Jace dipende delle stats vedremo for essere innovator anche oltre ad essere Transformer quindi 3 tag anche per lui poi Jin che abbiamo visto è nuovo vabbè 3 tag una è falsa una è sua ok però la passiva che aveva prima ce l'ha ancora quindi che non ha non attacca più veloce ah no prima però la attack speed aumentava mi pare no di po' si si no non aumentava era fixe anche prima è sicuro si si sono sicuro e ogni converte ogni 1% di attack speed in AD ok quindi la passiva quella di prima però la ulti è diversa quindi fa la ulti e tira 4 colpi e ogni colpo fa percentuale il suo D viene ridotto nel 30 quindi farà qui danni al primo verso che hit poi al secondo al quarto e l'ultimo colpo fa crit per forza e fa 44% danno in più in base alla vita mancante del target quindi il quarto colpo vabbè lo strong diciamo che è un Jin simile a quello di primo che fa danno Oe a Oe che però non è immediato come boom il quarto no devi fare la ulti e caricare primo non sciotto non sciotta un solo target fa danni a di più perciò ci metterà più tempo nel sergi sono quello che abbiamo visto da attack speed quindi gli danni a Jin e snipe perché gli aumenta il danno quindi due sergi che gli aumentano tanto il danno poi vedremo l'estate base delle sue è un buon carry secondo me ecco la preferita del balo Jinx vabbè preferita è la più rotta sicuramente ok Jinx fa la ulti e la morosa usa la ulti e dopo un po' di delay va giù quindi cavalca proprio il rocket va giù va dove va la ulti esatto quindi al nemico più al centro fa danno magico ai nemici attorno a questo epicentro e il 50% del danno a tutti gli altri nemici in un line in un line bella grossa l'epicentro viene a burn anche tipo morello mamma mia e però questo burn viene applicato sia ai nemici che agli alleati nel fatto è sta cosa ok quindi questo burn viene applicato tra le ha Jinx tra le ha Jinx esatto la usa di Jinx è che devi giocare per forza V ok Scrapple abbiamo visto sister quindi sister sono Jinx e V le sorelle sono empowerate ok l'abilità di V ovviamente è il rage di due ex e Jin guadagna 50% attack speed 3 secondi che stacca a unite che da un che fa quindi metti che lei ulta al centro kill 5 target guadagna 15% 50x5 quindi insane 15 secondi no allora penso che stacca l'attack speed ogni secondi i secondi non staccano eh non credo stacca l'attack speed no è vero i secondi no solo l'attack speed vabbè che sfiga che stacca l'attack speed e basta magari riulta poi vediamo quanto va e bla bla poi kaisa costa 5 io mi ripato ma non è la stessa del settore è molto più scarso per fortuna renz però mi ha detto che ha giocato un po' di altri game e ha detto che vinceva sempre kaisa quindi magari forte quindi kaisa va al nemico più lontano quindi dash su un nemico più lontano e poi tira l'acqua praticamente di lol è tipo la spell che aveva anche l'S3 se vi ricordate più o meno hit a tutti i nemici facendo danno magico per ogni volta che kaisa ha attaccato questo combattimento lancia un altro missile quindi all'inizio ad esempio il 2 sono 18 missili che fanno 75 danno l'uno però ammetti che devi tirare 4 auto attack prima di castare quindi sono già 22 missili poi ritira altri auto attack quindi tira altri tipo 5-6 auto attack sono 26-27 c'è capito aumentano sempre quindi più missili è mutant e challenger quindi guadagna mutante dipende ci sarà qualche tag bro qualche tag useless vedremo per farvi dire una che me la ricordo vedete che sono tutti i champ del void quindi vi lascio vi lascio il dovinare che energia potrebbero avere tra una di quelle e chissà perché è proprio quella e chissà perché è proprio true damage eh poi castage tira la Q quindi ha il suo target facendo magic damage e applica il malarive quindi toglie un po' di mana e si shielda e si shielda tutto il danno però non solo magic damage del 30% per 40 secondi anche lui si viene forte e poi c'ha c'ha protector esatto ci sono tanti costi 1 che fanno danno e shieldano curano tipo il laoi darius camille cassadin che se no comunque buone faranno trelierli quindi avremo una bella scelta di farlo trelierlo perché hanno tutte molto forti esatto molto forti darius garen cassadin ci sono tanti il laoi tanti sempre hanno costi 1 quindi lui oltre al suo shield guadagna anche lo shield protector se avete un protector figo infatti si però che vuol dire di shield doesn't stack ah no è quello dei protector che se ricastano non riguardagliano lo shield se è attivo quello prima capito quando finisce quello prima se ricastano lo riguardagliano ok sensato catarina catarina è simile a quella del set 4 quindi lei dasha dietro all'emico più che a me lo ha capito però questa volta non quello più lontano vicino a trex però e fa danno anche ai nemici vicini e per un nemico che killa catarina guadagna 50 mana quindi catarina 3 la vedo già bella strong anche perché ha academy che le da un botto di adap e ha assassin che le da crit chance e crit damage per maschunpo praticamente eh pigliere 7 no non l'ulta subito però quasi penso non so quanto male ha però penso 60 70 ce l'ha comunque massino cos'è col blue off spam cast eh non mi ricordo dipende quanto male avrà però probabilmente si guarda kog kog is back kog quello dei battle cast per 3 secondi la ulti è per 3 secondi kog prende range infinito 80% attack speed e il suo percento attack speed fa danni sulla salute massima del target come bonus damage e il bonus damage è 3% 86% mutante è come prima che può avere tutto io il game che l'ho provato l'ho provato che c'era meno mana tutti i champion mutanti e non era al massimo però c'ha sniper e c'ha twinshot perciò dipendentemente dal mutant sarà giocabile o no ha comunque due sinergia di danno praticamente con sniper twinshot e fa danno in percentuale no è forte come champion è forte il punto vedremo c'è poi la build probabilmente PSS ci sono tanti stun guinzo penso obbligatorio però vedremo poi leona costo 3 academy bodyguard che l'abbiamo già viste quindi lei si guadaglia uno uno shindy hp bello grosso per i 4 secondi e leona e tutti gli alliati attorno a lei di due ex guadagliano armor e meres per sempre per i 4 secondi quindi diciamo che ti dà un bel po' di tank tipo ti dà un locket e un locket marcio quando unta il fatto è che è forte bodyguard comunque sia una buona unit cioè perché più che essere solo lei un tank fa diventare tank quelli attorno a lei gli altri magari la metti vicino al carry però in realtà lei è veli quindi cambierà davanti però vabbè magari ce l'hai tutti un po' più attaccati se c'è il redemption non lo so c'è il redemption si ragazzi c'è il other set esatto ok l'issalda l'abbiamo vista di sfuggita prima quindi intombava praticamente lo intomba e lo stola per lo secondo e mezzo facendo darlo magico hai nemici però anche attorno quindi è l'alissandra del se però l'issandra se però l'issandra è sotto il 50% di salute cassa se stessa è uguale a quell'assettuno che ulta stun e fa da noe e però se sotto x si ulta lei e però in più applica dazzler onesto onesto forte non l'avevo pensavo così forte è tipo il mix tra l'issandra e l'assettuno e poi c'ha c'ha tutte e due forti perché scusa quando l'issandra scende sotto il 50% di salute cioè e quando c'ha chemtank che 60% di salute cioè è fortissimo diciamo che si refulla quasi praticamente però è un po' antissilagico però perché oh dai la damage reduction ma in realtà non può essere targettata quindi boh eh però fa più da c'ha attack speed magari ricasta prima staremo a vedere ed è che abitac x color comunque è forti si è energie forti poi l'uno set 4 la solita quindi fa la ulti e dà volo stealth e fanno K i nemici vicini e invece però ah ok se l'alleato però è diversa un pochino perché se l'alleato è già stato ingrossito viene curato lo cura forte e è veramente a Yordle che è quella energia che vi danno gli Yordle in bash dopo ogni combattimento e Enchanter quindi sia la sua cura che il suo shield saranno più forti ed è comunque tipo Mystic quindi comunque vabbè è un costo è un costo 2 utility molto forte lì sicuramente sicuramente eccola qua questa qua è carina Lux in pratica è un costo 4 ma è identica a quella del set 2 dove costava 7 diciamo fa un po' meno danni forse è la cosa ne fa di danni però perché e applica di regression anche lei ma hanno messo i dazzler su Lux e Lissandra senza dirlo però in realtà noi ragazzi sul pb noi sul pb ragazzi abbiamo già ogni volta facevano a kill o qualcosa del genere ricastava prima come la c'è 2 si però probabilmente gli hanno tolto perché era broken eh probabilmente si non lo so non mi ricordo ragazzi no tipo a 50 mana mi pare però magari l'ha incambiata sembra un rework questo onestamente Lissandra è andata si su set 4 qua invece di dare si a dazzler gli danno queste cose guarda la spell è academy ed arcanist arcanist l'abbiamo ancora visto quindi è praticamente dusk si è sorcerer no è più dusk è più dusk è più dusk è dusk è dusk perché ha 2 tutti gli elettrici si è dusk è dusk è identico a dusk ragazzi è proprio legit identico quindi va bene è uguale tra virgolette i maghi è buono poi bazar bazar mette lei quindi è tipo brand fa magic damage over 8 secondi e riduce l'embrace per la durazione per la durazione è uguale uguale mutan schiatta la si splitta su qualcos'altro bisogna vedere quanto male ha non credo abbia 20 male perché comunque il fatto che si splitti è forte però è un costo 3 quindi potrebbe essere guarda io ti dico l'ho giocato ho giocato i mutanti con il coso che aveva meno mana e stava con un calice cioè non mi ricordo quanto mana avessi e due mutanti arcani è praticamente brand cioè se ci pensiamo è perché anche la sinergia con l'arcani però è molto simile a brand diciamo adesso però a mutanti che abbiamo detto secondo me è figa la meccanica e comunque ogni game al fine siete a capire se è worth se giocare e chi giocare di questi poi mf costo 3 è uguale la tier list di sto set la c'ha fatta l'umore si è appunto se avete voglio mettere la mia ciazza lo volete vedere quindi mf è uguale a quella di adesso ok e però merceners secondo me non sarà mi data carry però oddio potrebbe no no secondo me no per le taghe che ha probabilmente c'ha mercenari e la voglia la rivela dal campo prima aveva cambio gli archi era inutile e ora sniper però non la far gottel vero la si rivela dal campo prima di subito sicuramente potrebbe essere giocata degli sniper con l'utilità perché comunque è buono però potrebbe anche essere carry poi oriano secondo me se giochi carry sniper giochi cogo tristano non ti mette già mf dirò la mia però vedremo o gin eh sì vabbè se vai dei livelli vai gin si oriano fa la ulti butta la palla su dove ci sono più nemici e fa la ulti e la sciocca e in più dallo shield agli alleati attorno a due ex ok e i nemici comunque vengono accappati e prendono danno è tanto lo shield 375 al 2 è forte è tanto lo shield e tanto il danno 575 è tanto e lo stun è buono e lo stun 1 e mezzo è un bel champion diciamo che clockwork non è il massimo per lei come sinergia però è comunque un enchanter è Cassiopeia eh sì 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 esatto è un carry utility ap cioè tutto simile a Cassi secondo me sì diciamo che le sinergie non sono il massimo per farla carry però magari la gioia è tipo feed cioè utility mystic che fa un po' di danno qualcosa simile per farlo per paragone su sto set anche se non è paragonabile poppy è uguale ma c'è una cosa scritta strana che non capisco perché non c'è nel grafico di danni sotto poppy è costo uno io ero del bodyguard è uguale solo che dice che fa danno in percentuale alla sua armor però qua sotto dice damage e basta flat non so in realtà vedremo perché se fa danno in percentuale alla sua armor è molto più forte perché anche bodyguard vero ma anche queste cose magari cambiano capito anche gli altri set cambiarono alcune cose però è la solita poppy diciamo di base sì quello sì qui che l'ha vista il balo cosa che fa queen vediamo allora quindi fa la q di queen quindi butta il falco che fa danno magico non fisico che qualcuno l'aveva chiesto eh non mi ricordavo il target e i nemici vicini il target che colpisce viene disable ridotto la d disable per 3 secondi e invece tutti quelli che colpisce la oe viene ridotto la d per 4 secondi è un bel utile è forte sicuramente hirly hirly è fortissimo il disarme la d ridotta perché tanto hirly tanti danni faranno cioè tutti faranno danni sugli attacchi la maggior parte comunque non fa tanti danni diciamo che ci sono tanti champ che hanno la d redaction sì queen e lissandra è un po' di dazzle esatto un po' di dazzle nascosti ed è mercer che l'abbiamo viste poi samira io l'ho provata a carry onestamente non mi ha emozionato così tanto però fa questo quindi se un target è vicino a samira lei li tira lei praticamente gli fa la q quella che ha meli quindi fa una cosa che fa danno in un cono meli facendo danno in percentuale al suo d è samira c'ha le tratti buoni per farla e in più ha anche armor ed action ok invece se il target è lontano lei tira quella ranged quindi tira tipo un alto attack a target e fa sempre sempre lo stesso danno però refunda anche ventimana quindi spamba un po' quel cast in lì ovviamente ranged come come yurith e questa quale è una percentuale e riduce l'armor tipo set ogni stack di 5 10 o 15 di seconda forte le sostegno ci sono imperial challenger imperial non l'abbiamo ancora vista alla sala del combattimento l'impera che ha fatto più danno il fight diventa il tyrant il tyrant fa bonus damage quando il tyrant muore questo buff imperial si passa passa esatto passa a un altro imperial a 5 devono essere sgravati a 3 se gioi i samira la devi gioare per forza se gioi i samira carry gioi si on front tank swain probabilmente per utility che è comunque arcanist ti gioi i samira forte ho trovato un video su youtube dove ho giocato 8 challenger 5 imperial un po' di cose assurde bravo però si ha visto tutti i radd vediamo comunque principalmente rad anche questo set vabbè però malzar e lissandra sono da inquadrare anche se sono costituite anche i merding vediamo esatto magari sono forti altri 3 esatto serafin fa la ulti quindi sul sempre il numero massimo dei nemici e fa la ulti fa danno magico e slow l'attack speed invece lei gli alleati che ci passano invece Ezreal esatto Ezreal costa 1 in meno Ezreal che costa 4 esattamente Ezreal del set 4 uguale perché cura da attack speed bonus agli alleati da attack speed e gli amici e gli fa danno esattamente però è più forte di Ezreal perché ha i tag più forti socialite è molto più forte socialite è forte perché la potrei giocare anche singolarmente un bel cc un bel buff una bella cura ed è novento è strano che non sia enchanter mi pare molto strano infatti innovator non so Ezreal curava certo no no curava pure il fatto è che come champion stand alone sia Tarek sia Seraphin sia Kali sono forti perciò anche solo giocare uno di questi per avere il buff 15% danni su una unit è vero che devi posizionarlo dove si dice lui perché c'hai proprio una osa illuminata però è fortissimo sciaco l'abbiamo visto quindi è il solito sciaco che diventa il target vulnerabile esatto e fa danno in base al suo AD e fa sempre critico ai nemici che sono sotto il 50% di HP tag scarsa però la Syndicate per me è scarsa per sciaco più che altro puoi giocare senza la Tenda Hiding capito ma scusa se lo giochi con Ravadon stacca quello Darkstar secondo me lo puoi fare con una build full offensiva tipo GA RFC con la GA dici eh sì con la GA perché poi rilascia sia di full con lo sciaco di Darkstar perché comunque c'ha 30% omni vabbè sì sì è vero armor fra questa sinergia a 3 per lui è forte se lo vuoi giocare solo lo Carr giochi Darius Brown da Frontline lui come Carr che si piglia il buff di Syndicate perché a meno ho capito Darius Brown sempre sì sì poi campionato avanti togli Darius e metti un altro un altro bodyguard oddio però non ce li ha sempre bisogna vedere come funziona se il buff lo prende inizio round e se lo tiene oppure se cambia perché è un po' strano perché se no devi giocare 5 per forza vedremo oppure non si gioca a questi anni che vedremo e poi il mecc avo di su set è cosa ragazzi è Innovator poi Singed fa la E quindi fa il fling il flip ok 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 butta un nemico addosso al numero massimo dei nemici ok e lo stun per x secondi quando è anche lui è uno sempre un forte illy come si diceva prima l'Oi eccetera perché comunque c'ho Iezer il Singed e Zilean e c'hai il mecc lo scalaberi è tipo cultist comunque è cultist è cultist e anche anche che abbiamo visto anche prima che si legge anche a 3 che anche ha i costi bassi per dirvi a livello 5 potete giocare 3 che è 3 novetà quella vale con Forte Warwick anche forte è figo Sion quindi Sion è la prima unit che vediamo dei colossi esatto ma no abbiamo già visto Galia scusami è tipo quello del set 2 solo che l'area più grossa abbiamo visto l'area più grossa e vengono sullati e prendono danno magico è un bello stun è tipo anche questo tipo seggioani ma è un po' più piccolo l'area di stun e due Imperial Colossus e Protector 3 tag ovviamente i champion Colossus ragazzi sono bilanciati per essere più forti perché potete giocare un ultimo costano due unit esatto poi Swain fa un Q di lol esatto quindi l'acqua di lol verso un cono davanti a se stesso tipo il secondo effetto che faceva quello del set 4 se vi ricordate che comunque applicava il morello in quel modo lì si e cura Swain per ogni nemico che colpisce anche quindi anche lui in early game è un tank che fa danni sicuramente tutte le unit sono molto valide il fatto è bene perché se erano forti esatto se erano forti solo poi unit tutti erano su quelle tipo un Jarvan Darkstar eccetera invece tanti unit valide vuol dire chiunque abbia lo start diverso può comunque andare di livelli con quello che trova esatto quindi molto buono che è Imperial e Arcanist anche quindi la sinergia di un buone tratti cioè Imperial è scarso Illy perché comunque trovare Talon e Samira non è mai detto però come unit decente allora Tam Kench partiamo dalla sua sinergia Glutton quindi una volta per planning phase quindi dopo che finisce il fight potete dare da mangiare una unit a Tam Kench ok prima inizio il fight esatto spendete gold ovviamente per questa unit quindi e gli date stati permanenti ok non sappiamo ovviamente le stats ancora noi perché non ci sono scritte penso per costo sarà poi ce lo dirà penso per costo perché più la unit costa più le stats sono buone quindi magari trovate 7 all'8 state giocando a Tam Kench e trovate un costo 5 che non vi serve nel roll lo comprate e gli ho dato a Tam Kench e penso che lui prenda una stat random tra HP armor e M-Res o altre cose tipo così però non mi ricordo bene come funziona deve essere figo deve essere figo vedergli dare un costo 3 cioè un 3 star sono onorioso di sapere cosa fa non le piglia tutte e 3 vediamo anche mercenary e bruiser e comunque vediamo cosa fa lui divora il suo target e se lo tira nella pancia per 3 secondi facendogli danno magico per la durata durante quel tempo è invullerà quello che mangia è invullerabile ad altro danno e Tam Kench ha il 40% damage reduction molto forte comunque se muore mentre è dentro di lui Tam Kench lo sputa what? che cazzo dici? questo non c'era aspera non ho capito no non c'era no fra se muore la unit che lui mangia Tam Kench sputa fuori un component di item di quello che aveva oppure gold mamma mia da permaciocare e permafiddarlo se invece non se lo killa quello che mangia lo lancia è stunnato è stunnato è però per vincere il fight è meglio che non lo killi perché comunque per farmare è meglio che lo killi esatto cioè se stai se stai a tanti HP preferisci che lo killi è strano è strano magari quel positioning per fare cose stanno diciamo che io ti dico lo comprerai sempre poi vedi se giocando o no più ce l'hai più ce l'hai meglio è sì lo fiddandolo il fatto è che dipende se sei indietro ok se lo trovi stage 4 per dirti al 7 lo compri lo fidi subito sicuramente con i host 1 con i host 2 dipende proprio da quante stats pigli ovviamente bisogna vedere secondo me comunque anche se lo killa fa sta roba perché se no non ha senso perché se lo fai a 2 ti dà sempre l'item e non fa mai il cc è brutto vediamo secondo me farà entrambi perché te dici che lo sputa e lo killa secondo te fra se lo killa il fatto è che come c'è scritto qua se lo killa ti dà l'item o i gold e non fa il cc se non lo killa fa il cc non ci ho capito molto vedremo vedremo lo spiegheranno meglio sicuramente o si vedrà come si funziona cioè nel senso una delle due talon ok talon è una passiva che il suo primo attacco sui nemici gli fa sanguinamento praticamente e ogni terzo autoattacco su ogni target applica un altro sanguinamento non so se potrebbe essere usato come carry comunque lui è imperial assassin le sinergie come carry ce le ha comunque imperial assassin che non hanno fatto la tarina non si è 7-1 e un po' come quando non fecero diana con la sinergia moonlight no cos'è che non gli aveva dato cazzo non mi ricordo a chi a diana lunar non gli aveva dato lunar lunar tarik eh sì se l'ammazza da gold se dite me lo sputa sì sì in teoria è così però vedremo come lo faranno tankang tarik tarik cura se stesso e cura l'alleato o meno salute è fortissimo è fortissimo è socialite che è fortissimo questo è proprio le tag che vorresti sempre perché è una unit che cura una unit che heala cioè comunque che heala se stesso e un altro dallo shield se hanno le cure e socialite da 15 bonus damage a uno a caso o che vuoi te e healing shielding e magic resist cioè veramente tag pazzeschi lo sapete perché vado a guardare con balo quando dice che potrebbe essere uno dei migliori set perché a differenza dell'ultimo set sto vedendo tante unit support valide ma poi valide cioè support forte il fatto è che gli altri set c'erano unit broken e unit merdose qui non c'è non abbiamo letto unit troppo brutte non sappiamo le stats ovviamente ma ogni unit sembra valida che poi vabbè magari faccio un esempio arrivi a facciamo un esempio sui pbs a terra a shilotte joey jinx vinci ok jinx istanerf punto non è che ci mettono tanto anche magari ci saranno le cose broken dei dei pick come si chiamano degli augments vedono che è solo piccato per l'augments a challenger bene quello nerfato uno mai piccato bene baffato e così fixano e come se ti ricorda nel set 2 c'erano tante unit del genere c'era gianna mi ricordo un set 2 questo effettivamente i cloud c'erano tante cose particolari o anche nel set 3 c'era soraka c'era karma hanno tolto iron cloud questo set diciamo si c'è bodyguard che però dà armor sui bodyguard però li puoi mettere anche in background per attantare un po' anche quello di frigo con questa energia poi tristana che penso sia come no invece tristana tira un colpo di cannone sul suo target facendo danno in percentuale più danno sul primo nemico quindi è da noi se il target meno 2x da tristana viene bloccato quindi è un po' un peeling anche e viene anche stannato quindi comunque fa abbastanza danno è uno yordle sniper quindi vediamo è da rerollare secondo me se la voce è ma non so se sarà un carry mi sembra un po' però col fatto che dopo un combattimento ti danno yordle probabilmente se vai a d vai tristana se vai a p vex non ho idea di cosa faccia ora lo vedremo o aimer vediamo vediamo secondo te sono dai per rollare anche perché la lossetagia lo dice io lo dico qua se a me sarà il miglior set io lo dico proprio mentre stiamo nel gen di champion guarda mi espongo già tra l'andola diverso fa sempre il morsino però invece della ulti fa il morso quindi fa x danni e slow l'attack speed 50% per 3 secondi anche lui slow l'attack speed e ruva un po' di add e pure lui che ruba la d mamma mia eh però se lo fa su un tank non è molto valuable capito lui ha comunque un frontliner hai visto che faceva l'effetto lo fa su una unit ora si lo fa su un target solo vabbè comunque la d la d illy comunque rubata è comunque forte anche al tank perché gli illy c'hanno tanti scappa bruiser lui quindi comunque si aggì anche forte forte anche lui illy chissà cosa farà cazzo ma tf ce la faranno una volta a non mettercelo a farlo diverso eh boh nel set 1 era molto figo con il set 1 eh potevano farlo come il set 1 secondo me però è molto sbilanciato se ci pensi una carta a casa eh ma poi è troppo forti dalla carta blu e quelle cose lì e comunque vabbè tira le tre carte come al solito costo uno syndicate arcanis ok quindi comunque in ogni game cioè avete due arcanis da uno figo cioè comunque tipo i sorster che giocavate a uno in early game comunque poi diventa più tipo d'asca twitch twitch anche lui costo uno assassin non si direbbe twitch però è figo era costo due quando l'abbiamo giocato noi no? no era costo uno forse no era costo uno lo confondevo con sing sembravano uguali eh ok quindi twitch fa la e praticamente ah no fa la ulti salta dietro ah no fa la ulti invece si salta dietro non salta dietro perché assassin è chemtech assassin e fa la ulti ovviamente molto meno forte nel set 2 però è strano che salta dietro diciamo per chi entra ora si ci sono le spot e si ci sono questi cosi nuovi che sono la meccanica del set che dopo non avevi visto la faccio vedere dopo tanto per la finale leggeri champion magari ci guardiamo il mio gameplay sono gli augment che possono dare più sinergie ok poi c'è Urgod il tag Urgod che fa la in pratica la sua W mi pare quando arriva xmana per i prossimi 5 secondi attacca il nemico più vicino a un attack speed fixato e ogni shot fa un bel po' di ad si questo danno scala con l'ad e con l'attack speed di Urgod però e lui è chemtech twin shot è ha buone tag per essere un utility carry secondo me perché tanka un po' col fatto di essere chemtech lì e twin shot comunque lo showerei sempre un jinx più che utility carry direi un bruiser carry cioè un carry si un bruiser si scusa un bruiser tipo i berserker per dire quale cosa lì o i i skirmisher tipo un tag si esatto e un costo 4 ecco Vex che finalmente vediamo cosa fa ok Vex si shield e quando lo shield si toglie fa danno non so quello che fa sul lol ai nemici attorno a 2x esatto e più nemici più danno se lo shield invece non è stato distrutto se è stato distrutto ok lo shield cioè l'effetto di questa spell diventa più forte ok e c'è scritto additional damage sotto più ulta più forte sta roba quindi magari l'effetto può staccare Vex può essere un buon carry i danni ce li ha cioè c'è 500 danni al 2 se gli rompono lo scudo e l'effetto può staccare e tantissimo shield e poi il fatto è che Arcanist se gioi uno Arcanist carry devi gioiarne 4 per forza perché è come Dusk cioè hai fatto Dusk Vai che abbiamo messo Sister ed è 3 tag cost 2 Enforcer ovviamente si sta però nella poterla utilizzare eh Sister non è una doppia cioè è una tag falsa è una tag se gioi Jinx dai esatto ed è comunque bruciare Enforcer che comunque sono buona sinergia quindi empower il suo prossimo modo attack per fare danno al suo target e il target dietro facendo danno magico in un cono e riducendo la loro armor quindi è uguale alla V che c'era nella set mi viene da dire un altro buon champion da Idly cioè è identica la V che c'era nel set 4 solo che comunque ha due serie belle forti anche questa armor reduction ci sono tanti armor reduction tanti attack speed slow cioè tanti a B redaction ok Victor Victor costo 5 eh Ozyman Ozyman penso sia uno dei più forti cioè il carry più forte a P per forza quindi Victor evoca più istanze di danno tra virgolette che lanciano dei raggi mortali è fortissimo che vanno sul sul campo in una linea bruciando i nemici le difese dei nemici ok questo è strano però perché i nemici ovviamente hit fa danno un bel po' di danno fa tanto danno non è così tanto in realtà il danno e hanno una percentualità di shit distrutta ok e fa armor reduction è un po' strano perché è un carry a P che fa armor reduction e induce gli scudi quindi non so se è proprio un carry secondo me è molto più utility lui se ci pensi è una unit che comunque tu puoi giocare come support quando stai giocando una compa D perché lui armor reduction toglie gli scudi e fa danno è bella shot secondo me però non è un carry è una unit che puoi giocare random se stai giocando una compa D perché lui dice l'armora O e toglie cioè toglie un po' di shield oltre a fare danno che mod SkyNana ha fatto ha già tradotto le sinergie in italiano mette gli do il mod subito e ve la mette in camera bravo SkyNana SkyNana 0 addio il creatore del lobby 777 mi faceva min vabbè ormai e invece ti ho messo mod SkyNana deserved ok Warwick è una passiva che guadagna ok fa danno in percentuale alla vita corrente del nemico e sicura per il danno fatto è simile a Olaf che invece di guadagnare attack speed guadagna danno a bonus è sicura champion forte per lilly attack speed per i tratti dico e anche per la ultima per la cosa della passiva un buon item holder un buon item holder ecco arriviamo al cesso del set per ora secondo me ancora deve aprire se fa allora Ione sommano lo spirito che è quella lì la E non so non so non ho mai chiamato per qualche secondo lo spirito è intergettabile l'immunerabile la copia di Ione e il ok devi buildarlo tipo carry per farlo utile cioè devi dare tipo guinso IE queste cose qua capito e devi dare le sue tag perché comunque ha una tag che gli dà attack speed e una tag che gli dà DAP ok e in pratica lo bafferanno 100% no secondo me è forte invece devi giocarlo con gli item per forza glielo ho dati glielo ho dati che item avevo non me lo ricordo l'ho già dato un academy challenger - sicuramente devi dare la guinso eh non me lo ricordo tipo guinso oggi è devi giocarlo o guinso oggi qualcos'altro e lui stacca la DAP degli academy stacca l'attack speed dei challenger forse può essere forte magari va bill out secondo me non è male non è male onestamente poi Yumi il gatto costo 5 final chapter Yumi è il bucchia quindi sia Yumi che il suo libro lanciano delle onde su un nemico più lontano lo vedete l'ho giocata nel game che c'ha su youtube comunque punti scopertivo youtube poi se volete andare a vedere i gameplay magari nel chill cioè sia il game di shako che ho fatto che il game questo qua dove ho giocato imperial challenger e anche malo nel suo canale ha dei eh io ne ho solo uno ma gli altri li faccio vedere adesso e li arrivo su youtube ok e quindi fa l'ulti su un nemico più lontano e li stula gli amici per un secondo e poi si riattacca l'alleato più vicino che fa anche un po' di danno quindi cosa vuol dire il riattacca è la sinergia cuddly quindi Yumi si quindi va dentro come su all'alleato più vicino allo strato di combattimento oppure l'alleato con meno hp quando non è stata attaccata per 3 secondi quindi dopo che ulta quando è attaccata dà all'alleato uno shield che equivale il 30% della vita massima di Yumi e Yumi se ne va quindi si stacca se lo shield è rotto e va da un'altra parte lo shield è proprio broken quando Yumi è attaccata a un champion è intergettabile e non può attaccare ma guadaglia 5 mana ogni secondo e 5 mana all'alleato attacca quindi comunque se è un alleato che ha tanto attack speed Yumi guadaglia parecchio male e poi va a ultare è forte è forte perché è anche scholar che dava anche uno dei champion più forti vabbè grazie al cazzo leggendare però veramente troppo forte tra Ione e Yumi con Yumi è attaccata a Ione è broken vediamo eppure Tarika che gli dà pure danni esatto Ione e Yumi Lux e Leona ah già no quello che cazzo era sì Lux e Leona perché c'è Lux che riduce la D ok c'hai Leona che ti dà shield e armor hai Ione che è un KMD allora Zack fa tipo lo stun prende nemici più distanti con 3 ex facendo magic damage e li stun che li porta tipo a sé Zack prende meno danni quando usa l'abilità danni ridotti tantissimi perché la percentuale è infinita e i danni non sono tantissimi però c'è le tag forti questo non è un champion da Illy perché vabbè costa 3 ma secondo me è un champion più da late qualche teccata per lo stun ovviamente se vi danno se lo danno Illy magari al 2 è anche decente perché fa tanti danni tanti danni ridotti e comunque dipende quanti champion con quanti bruises stai gioando è simile a Aatrox però Aatrox è la full range questo è 3 ex non è fino alla fine Illy probabilmente grabba i due Harry sì probabilmente è una teccata se c'è un Harry backline mid game dove sei arrivato? beh ho letto Zack non so se l'avevi messo eh vabbè farlo vedere dai farlo vedere qui che stai vedendo la stream fa tipo la fa tipo la osa di Aatrox fa tipo il grab di Aatrox soltanto in 3 ex e si pull a sé due unit e prende meno danni quando usa l'abilità e te sto dicendo ennesimo champion se lo droppi Illy non sei schifato però perché comunque giochi magari 4 bruiser e 3 champ tank non è che ti fa schifo anche lui si Zack assassin proviamo Ziggs strano che non sia Elian però vabbè sì che non sia Yordle però vabbè eh fa la Q anche anche qui la fantasia di Riot uguale a TF sempre lo stesso champion sempre la stessa mossa sì ma tanto tempo fa cioè un'ora fa due ore fa ok ok fa danno è tipo fa la ultima piccolina sì sì è sempre il solito champion eh no vabbè è simile dai no fa fa la ulti praticamente lui tira questa cosa a OE al target e al centro fa più danno e attorno fa meno danno fa danno OE non c'entra niente con lo Ziggs al solito a 500% 50% meno danni però sì ai nemici vicini però sì sì a quelli accanto a quelli accanto no è vero scherzo ho detto una stranzata ed è forte per le forti per le transition illy sicuramente le tag più forti potesse avere quindi Zileano quindi Zilean piazza una bomba sul nemico più vicino e di su quando lo stun finisce oppure il target muore la bomba esplode facendo danno magico e applica anche lui attacca di slow anche lui anche lui e lui è Clockwork Innovator comunque buono forte per lilly e basta comunque ha uno stun no è attack speed di dotta forte 20% 35% al 2 2 secondi di stun e 35% attack speed più 300 danni mi sa oppure se giochi Innovator o Clockwork in qualche modo arriviamo all'ultimo champion Zyra quindi Zyra fa come aveva detto prima è dove più nemici se l'ho detto ok nella nella riga nella riga dove ci sono più nemici facendo danni magico e stunnando ed è sai di che scola comunque anche lei quindi scola comunque sempre decente buona unit ap ok le unit sono queste